Tante persone purtroppo soffrono di qualche malattia intestinale, pensate che il tumore del colon retto è il tumore più diffuso dopo quello della mammella per la donna e dopo quello del polmone per quanto riguarda gli uomini, insomma dati abbastanza importanti, però si può fare prevenzione, adesso il professore ci dirà esattamente quali sono gli esami che dobbiamo fare per prevenire tutto questo. Allora, che cosa sono esattamente, che cosa sono i tumori del colon retto e chi colpiscono maggiormente? Buongiorno Monica, grazie dell'invito. Allora, il tumore del colon, purtroppo se parliamo di cancro del colon, perché c'è una differenza però, parliamo di tumore del colon che è più semplice, perché il tumore comprende sia le formazioni benigne che quelle un po' meno benigne, diciamo quelle manigne. Il tumore del colon deriva di solito da un tumore benigno, per cui da un polipo, questa come frequenza è la maggiore, poi ci sono tante altre cause che possono determinare l'insorgenza di questa malattia. Il tumore del colon, fortunatamente, è uno di quei tumori che con un pochino di attenzione dà segno di sé, cioè possiamo renderci conto di quando c'è qualcosa che non va e lo vedremo, il rassegno lo passeremo e lo vedremo. Il tratto di intestino che più frequentemente viene colpito è l'ultimo tratto, che è il sigma retto. Considera Monica che circa il 70% dei tumori del colon si localizza in questo ultimo tratto, mentre gli altri tratti sono molto meno frequentati. Che succede? Che localizzandosi in questa parte, nella parte terminale, danno dei disturbi abbastanza fastidiosi, abbastanza tra virgolette avvertibili. Uno dei quei segni importanti è il sanguinamento. La prima cosa che dobbiamo dire per tranquillizzare le persone che ci ascoltano è che non che tutti i sanguinamenti derivano da un tumore, assolutamente no, non è questa l'informazione che deve arrivare. Un sanguinamento deve dare l'opportunità comunque di avere un momento di riflessione e di parlarne soprattutto col medico. Esatto, il sanguinamento è uno dei primi segnali. Da che età noi dobbiamo iniziare un po' a fare i controlli e poi appunto quali sono gli altri sintomi, se ci sono, dopo il sanguinamento? Allora, l'inizio della prevenzione, perché la prevenzione non vi è dubbio che è la medicina più efficace, deve cominciare intorno ai 50 anni. Chi ha una familiarità, cioè chi ha avuto in casa un parente di primo grado, una mamma, un papà che ha sofferto di un tumore del colon, deve cominciare un pochino prima. Qual è la bella brutta notizia, tra virgolette? Perché si comincia già un po' in tarda età la prevenzione, diciamo intorno ai 50 anni, un'età giusta? Perché quando un polipo insorge nel colon e abbiamo visto che la frequenza è altissima, sai quanto ci mette Monica a diventare un cancro? Dieci anni. Per cui è un polipo che prima che si cancellizza abbiamo dieci anni di tempo per trovarlo. Per cui è un tempo altissimo e noi dobbiamo assolutamente andarlo a scovare in quei dieci anni. Allora, se noi a 50 anni facciamo come ormai è prassi e fa parte dello screening, un esame banalissimo, che oggi è estremamente sensibile, che è la ricerca del sangue occulto nelle feci, che una volta era condizionato da tantissimi falsi positivi. Cioè si trovava sangue, oddio, oddio, che cos'è? Adesso è molto più sensibile, per cui quando è positivo comincia ad essere importante. Bisogna andare a fare dei esami di secondo livello. Assolutamente, bisogna fare i livelli successivi di cui adesso faremo vedere, c'è anche un piccolo video che abbiamo preparato per far vedere. Quello che è fondamentale, non vi è dubbio, è comunque rivolgersi sempre al proprio medico e parlarne. Quando ci sono quei disturbi, subito dopo, abbiamo parlato sicuramente, il sangue occulto nelle feci è uno degli esami importanti che deve essere fatto, però ci sono anche altri esami dopo aver fatto questo abbastanza banale, si può dire. Quando il sangue occulto nelle feci dovesse essere risultato positivo, quando ci sono dei disturbi, allora a quel punto, intorno ai 50 anni, è buona norma fare un esame endoscopico, cioè una pancolonscopia, cioè una colonoscopia totale. Perché l'intestino va studiato per intero, cioè va studiato fino alla valvola eliocecale, cioè lì dove termina. È un esame che oggi non è più così invasivo come una volta, è un esame che si fa con una fibra estremamente più sottile, è molto più maneggevole di essere sedati. Sì, certo, comunque una blanda sedazione viene fatta, per cui è un esame molto meno invasivo di una volta, e poi il terrore, Monica, della preparazione, quei 4 litri, dover stare a casa tutto il giorno. Infatti non è tanto l'esame, perché mi addormentano, non sento nulla, è la preparazione che è un po' spaventa. Hai perfettamente ragione, Monica, hai perfettamente ragione. Oggi ci sono dei nuovi prodotti in commercio che anche con soltanto un litro di preparazione si riesce a pulire tutto l'intestino che deve essere studiato. Assolutamente sì, insomma deve essere pulito per studiarlo al meglio. Ecco, come si svolge questo esame? Allora, guarda, l'esame è un esame che dura intorno a 15 minuti, 20 minuti. Bisogna anche, è legato la durata dell'esame anche alla conformazione anatomica del paziente, no? Ci sono dei pazienti che si entra e si arriva direttamente alla fine in breve tempo, invece altri che hanno un colon molto tortuoso, pieno di curve, e via dicendo, allora bisogna fare un percorso più importante, no? E sì, anche il nostro colon fa curve, per cui dobbiamo fare così. No, per quello, insomma, lo sto pensando, insomma, è abbastanza impegnativo, diciamo. Sì, è soggettivo, non dipende, ma diciamo che lì in massima in una 15-20 minuti l'esame si fa. E se dall'esame però risultano esserci dei polipi? Vengono tolti, vengono tolti, soprattutto se sono endoscopicamente eliminabili, perché ci sono dei polipi, come vediamo in questo video che adesso sta passando, che sono dei polipi epeduncolati, questi sono semplici da togliere. Ce ne sono alcuni che possono essere sessili un pochino più grossi, più voluminosi, che magari, ecco, lo vedi come viene tolto il polipo, viene tolto ed esaminato. Questa è una cosa importantissima, perché ci dà il nome e il cognome di questo polipo. Di quella formazione, no? Per cui a quel punto noi abbiamo la carta per sapere quanto questo paziente dovrà essere controllato nel tempo e con che tempi, con che vicinanza tra un esame e l'altro. Allora, abbiamo detto che i tumori del colon retto sono frequentissimi, possiamo fare prevenzione, abbiamo detto sicuramente dopo i 50 anni, ma c'è un altro modo di fare prevenzione? Allora, guarda, la prevenzione, sono sempre felice che tu ti occupi in modo di alimentazione. L'alimentazione, Monica, anche nel tumore del colon retto è fondamentale. Per cui un'alimentazione priva di cibi grassi, le carni rosse, ogni tanto le carni rosse sono purtroppo imputate di essere una delle tante cause del tumore. Le fibre, le fibre bisogna mangiarle, per cui pasta, patate, cereali, verdura, frutta, devono far parte della nostra dieta, che tra l'altro è la dieta nostra, quella che ci appartiene. Per cui, infatti, che cosa negli Stati Uniti d'America, in questi stati dove si mangia un pochino più grasso, è percentualmente più presente questo tipo di malattia. E questa è una buona cosa per noi. Allora, noi sicuramente... La prevenzione a tavola. È tutto la tavola. La prevenzione a 50 anni, fare la ricerca del sangue occulto. Tra l'altro le asle di zona mandano proprio l'invito, ed è un esame che si fa gratuitamente. Se c'è una positività o qualche familiarità che lo impone, a quel punto, a 50 anni, bisogna fare questa benedetta, credetemi, e benedetta conoscopiare. Ci salva la vita, questo dobbiamo dire. Professore, lei pure, il suo cavallo di battaglia, la prevenzione, so che organizza anche tanti eventi, prossimamente, a giugno ci sarà un evento, per noi donne, no? Esatto. Il 9 giugno faremo un evento a Roma, che si chiama Paddle e salute la sfida, ma magari ne parleremo con più. Ed è un bel evento dove faremo la prevenzione gratuita per le malattie della mammella, per cui tutte le donne. Però noi pensiamo anche agli uomini, per cui faremo lerni e inguinali per gli uomini. Ottimo, ottimo. Prevenire. Questa è la parola d'ordine. Io adesso...